Francesco Monte negli studi di Uomini e Donne? L'ex naufrago ha condiviso una foto, mostrandosi all'interno di uno dei camerini degli studi Mediaset. Sembrerebbe proprio uno dei quei spazi dedicati proprio al programma di Maria De Filippi. Da qui, i fan hanno iniziato a chiedersi come mai Francesco si fosse fatto un selfie negli studi del noto programma. L'ex tronista potrebbe prendere parte a qualche altra trasmissione di Canale 5? Dopo l'Isola dei Famosi, Monte ha scelto di prendere parte solo ad una puntata dalla 500 alla 1 Verissimo. Qui ha raccontato le sue ultime emozioni vissute nel reality. Francesco ha, però, preferito evitare qualunque tipo di confronto con Eva Enger. Infatti, sebbene sia stato invitato, Monte ha preferito non presenziare nello studio del reality, dove avrebbe potuto incontrare l'ex naufraga. Ed ecco che le domande dei fan, nelle ultime ore, sembrano incessanti. Il camerino dove ha fatto il selfie appare sia proprio quello di uomini e donne. Ma non solo, a confermare ciò ci pensa l'agenzia del fratello Stefano, la quale ha condiviso un video rivelando di essere negli studi Titanius in via Tiburtina. Una notizia inaspettata, forse una grande sorpresa per i telespettatori? Maria De Filippi potrebbe aver deciso di invitare in trasmissione Monte, dopo quanto accaduto sull'isola. Nonostante la sua storia d'amore con Cecilia Rodriguez sia finita, Francesco non potrebbe comunque tornare nel trono classico. Infatti, nelle ultime settimane, l'ex tronista ha dichiarato di provare un forte interesse nei confronti della naufraga Paola di Benedetto. Monte starebbe aspettato di vedere Madre Natura lontano dalle telecamere. Dunque, non potrebbe iniziare una nuova esperienza nel programma che l'ha reso noto nel mondo della televisione. Forse una semplice sorpresa per i telespettatori. Non è la prima volta che Maria De Filippi ospita gli ex partecipanti del trono classico in studio. Nel corso della giornata di ieri, abbiamo visto anche Jeremias Rodriguez condividere una foto che lo ritrae all'interno di uno dei camerini Mediaset. Molti sono convinti del fatto che si tratti di uno degli spazi dedicati al programma di Maria De Filippi. Non ci resta che attendere per scoprire come mai i due ex cognati siano entrati nei camerini di Canale 5.